Grazie a tutti. Odio deluderli. Squadra blu, dov'è Master Chief? Mi ha chiesto di rispondere alle domande del Consiglio, signore. Stiamo esaminando il rapporto. Avete trovato una stazione di comando Covenant. Qui dice che stavano mettendo insieme una flotta di più di 500 navi. La stazione è stata quasi sistemata, ma la minaccia è ancora là fuori. Ho il rapporto, ma per gli archivi di questo Consiglio. Qual era il bersaglio di questa flotta a Spartan? Comando stazione, chiedo conferma per sonda Charlie 319. Sembrerebbe una falsa lettura. Alarm, 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 alarm. Non può essere. C-319 è attivo e funziona correttamente. Stazione! Allertate subito la flotta! Ci hanno trovato! I Covenant hanno trovato la Terra! Allertate subito la Terra! Allertate subito la Terra! Allertate subito la Terra! Grazie a tutti